Bene, vi ringrazio. Ora, considerando questa sorta di lapsus calami, per la quale appunto il titolo del mio intervento sarebbe la psicanalisi, rivela non rivoluzione, mi sembra ragionevole ritenere che nessuna rivoluzione garantirà mai, se non allucinatoriamente, la conversione dell'eccitazione in accettazione, conversione che a volerla dare per isterica sarebbe ancora edulcorarla. La psicoanalisi quindi offre un ascolto che umanizza la vita, avversando la crescente disumanizzazione di ciò che il collega e il fraterno amico Franco Quesito questa mattina chiamava maldessere, riducendolo a malessere, cioè a segno del male, ovvero a comune denominatore di un'umanità zoologizzata e vi è più asservita alla nuova frontiera dell'ideologia, quella di ecosistema, allucinato sempre come ecosistema. Ascolto e maldessere perciò si coimplicano. In che modo? Beh, ad esempio la fisica analoga a quella coimplicazione ad un ponte di Einstein-Rosen, più noto come Wormel. Si tratta propriamente di una singolarità, guarda a caso, lo siamo tutti, no? Ovvero di una connessione fra aree e di spazio che può essere modellata come soluzione di vuoto nelle equazioni di campo di Einstein, le quali descrivono tale connessione come l'incontro tra un punto di entrata di un buco nero e il punto di uscita di un buco bianco. La cosa interessante è che in tale singolarità fine e inizio per l'appunto si coimplicano. Potremmo quindi paragonare il punto di entrata alla necessità di sopportare la vita e il punto di uscita alla bellezza guadagnata da quel saper sopportare. Ora, con un ironico omaggio alla moda di cavalcare il bolso ronzino della reduxio ad unum, potremmo anche indicare a quei punti come alla nascita, da intendersi come significato, e alla morte, da intendersi come senso della vita, naturalmente con la consapevolezza di non poter confondere il significato col senso. La psicoanalisi, mi perdonino gli amici lacaniani che elidono la O, rimanendo il sottoscritto affezionato alla nominazione freudiana, offre dunque quella risoluzione di vuoto che in fondo il segno grafico della O circoscrive, che permette lo scriversi di un destino. Non si tratta di uno scriversi propter hoc, né post hoc, si tratta invece di una scrittura che avviene su tre assi, per così dire. Narrazione, racconto, lettura. Che l'ascolto dello psicoanalista deve sapere accogliere facendo luce sull'insistenza della coazione a ripetere, quale prodotto di quel lavoro del negativo, rimozione, negazione, preclusione, attorno a cui si attorciglia la parola e il suo resto. Affinché ci sia ascolto, sono necessari tutti e tre quegli assi. Infatti, se ci fosse narrazione senza racconto, la lettura diverrebbe superflua e la narrazione darebbe l'astura ad una pletora di pseudologie sul dove e sul quando relative alla logica del trauma. Se, d'altra parte, il racconto facesse della narrazione una nomica storiografia, la lettura sarebbe negata facendo del racconto mera fenomenologia, cioè resoconto del trauma senza dove e senza quando. E infine, senza lettura, quindi senza il come, il modus, cioè nel raccordo che chiamavo coimplicazione di narrazione-racconto, ovvero di ascolto e maldessere, ingabbiati tra due estremi, quello strutturale del DSM-III e quello funzionale del DSM-V, non vi sarebbe alcuna possibilità di intendere quale portato sostanziale dell'atto analitico. Al peggio, l'ascolto verrebbe saturato da un rumore di fondo che non permetterebbe realtà alla parola né al soggetto di cogliersi nel suo esser parlato. Verrebbe meno, insomma, la possibilità di uno scarto aperto tra sé e sé che in quell'ascolto sostenga il lavoro del transfert. Non è forse con la direzione del transfert che si rendono possibili le rettifiche della posizione soggettiva? Nessuna di queste rettifiche può equivalere ad un'oscillazione statica. L'ossimoro è solo apparente tra l'oggetto e la meta della pulsione. Perché in tal caso ci troveremo nel campo delle cosiddette campo, lo uso in omaggio ai coniugi Baranger, delle cosiddette adequazio, cioè degli adeguamenti, degli addomesticamenti della pulsione di morte per meglio controllare la vita. Del racconto, come ci ricorda James Alexander, fin dal 1972, rimarrebbe l'orrore senza una cura. Come è noto, non c'è adeguamento che gira e rigira non si fondi sulla paura. In Italia, ad esempio, l'emergenza pandemica ha sortito un pericoloso adeguamento, quello della trasformazione delle restrizioni accessorie in consuetudini che hanno legittimato uno stato di emergenza permanente contra Costituzionem. Poco importa che sia stato revocato perché lo scopo era di trasformarlo da imposto a richiesto. Quella richiesta somiglia molto ad un pervertimento socializzato della paura e della sua conversione in angoscia controllata. L'effetto dell'angoscia è insidioso e pervasivo perché in relazione ad un che di indeterminato verso cui le strategie di difesa più primitive generalmente falliscono. Ecco, detto per inciso, perché quando si ricorre ad un'analisi viene disvelata la natura ora antinomica, ora paradossale, ora contraddittoria degli investimenti e controinvestimenti libidici di cui è sostanziato il desiderio inconso. La paura è in fondo una prosodia dell'oggetto pulsionale senza mai raggiungerlo perché la sua esistenza psichica non è ontica, ma è ontologica. Bisogna saper distinguere tra dimensione ontica, cioè tra l'esistere e l'esserci, come dicevo prima, tra il significato e il senso. Ad esserne raggiunta, ma con una soddisfazione, diciamo, insatura, è semmai la meta. Insatura perché la natura A dell'oggetto ne ripropone l'incessante spostamento. Fino alla fine degli anni Sessanta, del secolo scorso, le istituzioni facevano saggiamente perno su questa, chiamiamola, incolmabilità fra pulsione ed oggetto, al fine di garantire un sistema di divieti dove la legge fosse raccordo tra etica e morale, nonché garanzia del nesso norma-sanzione. Tuttavia, dopo la bellezza, si far per dire, del decennio che in Italia caratterizzò il sessantottismo con tanto di morti, martiri ed eroi, per poi finire come spesso accade in questa non-nazione, a tarallucci e vino sul desco del potere, si addivenne ad una riconversione, significante, caro all'ecologia d'assalto, della pulsione ad una spinta al bisogno, il cui oggetto dovesse essere raggiungibile per definizione, consumabile bulimicamente, il più possibile anomico, ai limiti della non-cosa. La stessa virtualizzazione della realtà al netto delle comodità tecnologiche ha prodotto l'effetto di deontologizzare l'esistenza. Si è trattato di convertire le comunità in masse, masse bisognose, che l'abolizione del sistema dei divieti ha scristianizzato, promuovendo la morale, cui si è ordinato di giustificare tutto o quasi quale agente del diritto. Non l'etica, capite? La morale. La logica del bisogno castra la pulsione dal suo oggetto, sciogliendone il legame con la meta. Oggi, non a caso, si inneggia liberi tutti. E però, così posta, la libertà diviene un vertiginoso abisso d'angoscia, che nell'era del lockdown mostra il proprio fondo di disperazione e di depressione. Tocchiamo con mano quanto un'imminente figura della psicoanalisi francese, quale fu il compianto Pierre Fédida, indicava a proposito del disumano, che non corrisponde all'inumano, quale annientamento dell'umano, ma al suo contrario, cioè ad un pestifero ed infernale rimedio all'irriducibilità dell'altro, al gemmare della bellezza nel finito delle differenze e della loro infinita combinazione. La pervasiva immaginarizzazione dell'io consente di sopravvivere tra due grandezze inversamente proporzionali, l'assenza dell'altro e la presenza virtuale. Ecco allora che la vis addittiva, quella virtuale, sostituisce il ciclo circadiano del vivere con l'influs del vivente in una proiezione della realtà spogliata della sua consistenza ontologica, una realtà bidimensionale, disumana, che diviene imperium sotto il segno dell'eguale, dove vige uno spietato omunismo, devo questo neologismo a un caro e fraterno amico, dottor Giovanni Regginato. L'omunismo, ove l'elisione della lettera C, indica che al posto del soggetto barrato vi si installa l'oggetto castrato, che tutti ci rende fluid, connessi, felicemente socializzati, che è il nuovo significato di civilizzati. non ci vuole una laurea in logica per dedurre che l'umunismo post-pandemico, che nella memoria a quale funzione organizzatrice della vita psichica sostituisce protocolli di registrazione e controllo, permette solo adeguamenti. L'adeguamento ha sempre, come avrete ben capito, un che di allucinatorio, non a caso la propaganda vi fa agio. Il cambiamento è un'altra cosa, invece il cambiamento è conciliatorio, proprio perché è la sola strategia possibile per sopportare la vita con tutta la sua faticosa e straordinaria bellezza. Senza conciliazione, ogni adeguamento è collaborazionista, secondo le sole due alternative possibili, che sono così ampiamente documentate dalla produzione televisiva, per esempio sulle piattaforme, come Netflix, o diventare zombie, o diventare vampiri, che in fondo, altro non sono, se non patetiche pseudologie, per emanciparsi dalla morte. O il sangue si ferma, o diviene oggetto bulimico. Cos'è che accomuna zombie e vampiri? Il fatto che non possono pensare, non possono più pensare, perché viene meno. Non possono, sono già morti. Non possono più pensare, perché viene meno quel che ne permette il sorgere. Cos'è che permette il sorgere del pensiero? Freud è chiaro, lo dice l'inibizione, la sospensione dell'immediato, lo stabilirsi di un intervallo vuoto e quindi il generarsi di un ritmo e con il ritmo la capacità di engrammare, di rappresentare, di memorizzare. Il ritmo implica un certo modus dell'integrità, laddove invece la logica del bisogno crea un ecosistema degli scarti. con le sue paroline d'ordine, divenute, come ricorda il professor Roberto Cheloni nel suo libro Antologia dagli scritti, S codici, dove S sta per sprache. Quali sono queste paroline? Smaltimento, riconversione, efficientizzazione, questo per citarne solo alcune. è l'ideologia ecologista della pura estimità, non nel senso del saper valutare, ma capovolgimento dell'intimità, regno cioè di un bene incurabile da inoculare affinché la logica del dentro fuori renda social, Freud la chiamava con l'elegante ironia che gli era propria la sovrana pubblica opinione, ciò che invece vi è di intimo e proprio, sostituendo quale processo psichico della civilizzazione, cioè l'integrazione, con l'evacuazione. Non siamo più creature fatte a immagine e somiglianza di Dio, siamo emuli di una pompa idraulica, siamo l'uomo pneumatico, dobbiamo assimilare il bene affinché la perversione possa farsi legge geneticamente modificata, attraverso cui il potere si imponga con la medicalizzazione del vivente. Sono stato nei tempi, ah, ma... grazie. grazie Grazie.